Aspetta che no, vai verso l'altra camera e vai via, io ho pronti i passi, ho pronti via, devi cominciare a mangiare, rapida però, ma camminata normale, vai, cammina, qui però devi mangiare più rapido secondo me, più rapido, no, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, da 7, da 8, da 9, 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 da 10, 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 da ma tremenda ma è ancora tutto in bocca c'è l'altro come dice